È prevista per oggi pomeriggio la conferenza dei capigruppo che dovrà stabilire la data del prossimo Consiglio Comunale di Andria. Sarà una seduta decisiva per la sorte della consigliatura, se infatti Forza Italia confermerà la decisione di non votare il bilancio tutti a casa. Di giorni disponibili non ne restano molti, poco più di una settimana. La maggior parte dei capigruppo oggi proporrà di inserire all'ordine del giorno altri provvedimenti, come la decisione relativa alla nuova tangenziale e il regolamento edilizio tipo, dando per scontato che il voto sul bilancio sarà negativo e, come dicevamo, concluderà la consigliatura. Ed effettivamente i margini per una ricomposizione in extremi si appaiono veramente esegui. Si attende un incontro ultimativo tra il sindaco e il consigliere regionale comunale Nino Marmo per un tentativo finale, ma al momento le posizioni appaiono piuttosto rigide, nonostante siano evidenti le responsabilità che Forza Italia dovrà assumersi, facendo cadere l'amministrazione di un capoluogo di provincia con tutte le ripercussioni più volte illustrate e facilmente immaginabili. Nel frattempo vanno registrate alcune prese di posizione, come avevamo anticipato ieri domenica il sindaco ha riunito i suoi assessori per chiederne il sostegno, cosa ha ottenuta attraverso una nota sottoscritta da tutte e nuove i componenti della Giunta, compresi quindi sia l'assessore espressione di Forza Italia Gianluca Grumo, sia quell'espressione di Nino Marmo Luigi del Giudice. La ciurma di Giorgino, composta da più di un mozzo e mozze, rivendica con orgoglio assoluto e genuina determinazione i risultati conseguiti dall'amministrazione comunale. Potremmo fare un asettico elenco dei risultati raggiunti, scrivono meglio si fanno scrivere, che hanno consentito ad Andria di fare un salto di qualità in materia ambientale, culturale, di sicurezza, di opere pubbliche, nei finanziamenti ottenuti nella mobilità per una maggiore sostenibilità e per una città a misura di famiglia. Insomma, Andria come in un mondo di fiabe. Noi assessori, si legge ancora nella nota, rappresentiamo anche politicamente i gruppi consigliari e facciamo appello al senso di responsabilità generale affinché venga evitato in aula un voto distonico rispetto al nostro operato. Insomma, un accolato, lasciateci stare. Non entriamo nel merito delle affermazioni contenute nella nota, ci limitiamo a consigliare il cambio del suo estensore. Oltre a quella della Giunta, va registrata una lettera aperta dell'Ordine degli Ingegneri, degli Architetti e del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati della BAT, con la quale si fa appello al senso di responsabilità degli amministratori a che si approvi il regolamento di lizio tipo con il conseguente adeguamento delle norme tecniche del vigente piano regolatore, al fine di non vanificare l'ampio lavoro profuso dai componenti del tavolo tecnico e dagli ordini e collegi professionali. Qualora ciò non avvenisse, prosegue la lettera, tale mancanza graverebbe pesantemente sul settore dell'edilizia già fortemente provato dalla crisi economico-finanziaria degli ultimi anni. Appelli che al momento appaiono destinati a cadere nel vuoto, il problema infatti, come più volte evidenziato, più che amministrativo appare politico, ed è su tale terreno che nei pochi giorni rimasti verrà assunta la decisione definitiva.